Le edizioni scolastiche Bruno Mondadori presentano Music Steps, il nuovo corso di musica per la scuola secondaria di primo grado legato alla tradizione ma completamente rinnovato grazie a nuovi e consolidati autori di grande esperienza. Con Music Steps tutti possono imparare e tutti possono raggiungere i propri obiettivi di apprendimento step by step a piccoli passi nella grande musica. All'interno della consueta struttura in due volumi, uno per il metodo, la teoria e l'antologia, uno per gli strumenti e la storia della musica, Music Steps introduce una didattica innovativa fatta di passaggi graduali e abilità crescenti per imparare a suonare, a cantare e ad ascoltare la musica. Nuovo metodo per voce e strumenti, gradualità nell'apprendimento, strumenti per l'inclusione, percorso trasversale sulle competenze. Sono queste le parole chiave che descrivono Music Steps, un corso che promuove l'apprendimento progressivo della musica grazie ad alcuni elementi caratterizzanti che lo rendono unico. Alla base del nuovo metodo ideato da Aldo Martinelli ci sono il ritmo e la sua percezione e l'introduzione di nuovi strumenti, come il metallofono e le percussioni bitonali. L'esperienza concreta della musica diventa riflessione sul linguaggio nella solida teoria, a cura di Vasco Vacchi. Gli strumenti dell'orchestra sono presentati con carte d'identità per costruire le competenze di ascolto e sviluppare il gusto musicale attraverso una grande varietà di brani che si rifanno a tutti i generi musicali, antichi e moderni. Se faccio musica, imparo. Il volumetto composto da tre percorsi di musica animata per una didattica inclusiva e graduale. Ogni anno si lavora sulle competenze musicali attraverso l'allestimento di una piccola opera lirica tratta dai percorsi di lettura del triennio, ridotta, sceneggiata e musicata da Mauro Montanari. Il corso include il passaporto per le competenze per l'attestazione finale delle competenze raggiunte, un ricco corredo digitale e un canzoniere per chitarra. Questo è Music Steps, un corso altamente inclusivo per imparare la musica divertendosi.